Ciao a tutti. Questo è un Everest K2C dal 1958. Si sembra un tipo di tipo portabile normale, ma è un tipo di tipo molto unico per molte ragioni. Prima di tutto, è l'unico tipo di tipo nel mondo che ha il nome di due grandi montagne in suo nome, non altro che il primo e il secondo Aiger Mountain in il mondo. Non troveremo un altro tipo di tipo con un nome come questo. Stricamente, Everest è un brand name e K2C è il modello. Everest typewriters erano prodotti dalla società Serio, fondata nel 1932 a Crema in Italia. Serio in italiano significa Sirius, e Crema significa Crimm. Ma Serio, in fact, è il nome del riveo che va su Crema, che è una città. E abbiamo trovato un'altra particolarità. Questo è l'unico tipo di tipo produzione da una compagnia in una città, con un doppio significato. Everest ha fatto anche il modello K3, e anche K3 era il nome della montagna. Ma questa montagna ha cambiato il nome a Broad Peak, quindi Everest K2 era l'unico tipo di tipo con il nome di due montagna. Un'altra particolarità è che questo livewriter può avere un tasto con 138 modelli diversi. Per alcuni di questi non avevo mai visto che esistono. Ci sono 4 modelli diversi per l'Australia, per la Costa Rica, Ecuador, per i finissimi farmaci, Francia per l'Ethiopia, Guatemala, Honduras, Anglico per Lahore, Mariutus. Non troverai mai un'attività così grande di livelli per un scrivere. L'ultima particolarità è che Everest ha un strumento di catalogo con 129 strumenti specifici per i suoi dispositivi. Oltre a questo, è un strumento di portabile portabile. Qui imposti la tabulazione stop. Qui usi il tabulator. Puoi cambiare il colore del ribbono. Seti le margini. Margin bypass. Interline lever. Interline selector. Inizio c'è anche una regolazione per il tasto dei passaggi. Queste sono abbastanza buone funzioni per un scrivere portabile portabile. Penso che le persone che compriano potrebbero essere soddisfatti. E' abbastanza pesante. E' abbastanza pesante. E' abbastanza pesante. E' fatto in metallo. Potremmo anche avere due caratteristiche. Ok, tutto. Penso che è incredibile che esiste un tabulator con il nome di due montagne. E' sicuro che non vedrai un tabulator con le stesse caratteristiche. E' abbastanza pesante. E' abbastanza pesante. E' abbastanza pesante. E' abbastanza pesante.